alla quale noi abbiamo risposto, perché dal Parlamento non è arrivata nessuna risposta, ma da lì abbiamo cominciato ad alimentare questo rapporto, ma vi dico l'ultima di questa mattina, il sottosegretario Rossi Doria, a cui lui poi si è rivolto perché avevamo creato il contatto, e questo ha fatto un'analisi che gli ha mandato questa notte alle tre e mezza, vero? Gli ha scritto alle tre e mezza, facendo tutta la storia di questa scuola e dimostrando come non era assolutamente, non rientrava nella legge Gelmini, chiuderla, quindi c'era stata una svista da parte di qualcuno, mi permetto di sottolinare che c'è stata una svista, sicuramente una svista, oramai lui, un ragazzino di 16 anni, si confronta, Rossi Doria oggi ci ha detto, l'ho messo in contatto con l'assessore alla cultura della regione Sicilia, oramai lui diventerà un consulente, è nato questo movimento, fatti sentire, dalla lettera di Eguine Fode, ed è forse per noi la gioia, la soddisfazione più grande, il film per noi è stato un bagno di sangue da un punto di vista economico, ma siamo felici di averci messo dentro tutto noi stessi, perché poi i ragazzi non fanno che chiedere di vedere questo film e quando tornano a casa costringono i loro genitori a tornarci la sera, quindi abbiamo visto questo film rinascere anche nelle multisale. Grazie, se poi arriverà, ecco, la sorpresa finale doveva essere un piccolissimo finanziamento che abbiamo mandato a Conacri, noi abbiamo creato una fondazione di Eguine Fode con il papà e la mamma dei due adolescenti africani e lì con l'aiuto di un giovane italiano che fa un bellissimo lavoro, insomma recupera materiale sanitario dismesso, se lo rimette tutto a posto lì e lo porta perfino con una piroga su un'isola, ha portato dei letti anatomici, letti clinici, una sedia a rotelle e lui ci ha aiutato nel sostenere un po' questa fondazione che abbiamo creato e oggi si conclude un piccolo torneo di calcio che hanno intitolato al sole dentro Iaghin e Fode, mi hanno promesso una telefonata a fine della nostra proiezione e fine delle loro piccole partite di calcio, se arriverà ci parleremo insieme con Conacri, grazie, se vorrete apprezzare, grazie.